si aprono le gabbie partiti i cavalli della quarta del pomeriggio buon livello tecnico e subito Korgos decide di metterla sul passo in poche battute da uno steccato basso si porta a condurre anche con una certa decisione ad un paio di lunghezze segue Clean Emperor poi in terza Nocturne Alley a precedere Vento d'estate poi Allen Key che ha in schiena Sparkle Allot, Kenyote, Man in Promise con la giubba arancio e poi Thunderflesh a chiudere il drappello dei partecipanti insieme a Black Laser che si è messo di dentro ne è uscito fuori un parziale vehemente da parte di Korgos che sfruttando il peso basso è sempre leader della corsa in seconda corsia Galoppa Clean Emperor in terza si è sistemato il favorito Vento d'estate che ha di dentro Nocturne Alley poi ancora di fuori Man in Promise Allen Key, Black Laser con Sparkle Allot che è scivolato in coda insieme a Thunderflesh questo è il tema della gara quando siamo all'imbocco della dirittura che è quella di pista piccola sempre Korgos senza indugiare, senza guardarsi alle spalle Clean Emperor è il primo che prova a mettere pressione ma è comunque a 4-5 lunghezze rispetto al leader poi Vento d'estate che ha cominciato la sua cavalcata dal centro della pista all'esterno c'è anche Man in Promise Korgos è davanti ma ha speso tantissimo per essere lì e allora ecco la minaccia da parte di Nocturne Alley che si avvicina con ampie folate poi Clean Emperor che è rimasto lì Man in Promise al centro della pista gli altri che sono lontani al paletto dei 200 Korgos è ancora saldo leader con Nocturne Alley che tenta l'ultimo assalto insieme a Man in Promise ma alla fine Korgos la porta a casa in cost to cost risolvendola da lontano e soprattutto non ammettendo alcun recupero da parte dei rivali che sono forse rimasti sorpresi da questo tatticismo vince Korgos 7 la quota fissa Salvatore Basile in sella per il training di Fabio Boccardelli e colori di Lenoedana Montechiari cavallo sempre particolare da gestire oggi però non ha fatto prigionieri andando in avanti quindi impegno concreto il suo interprete l'ha tenuto sempre vivo e alla fine il risultato è arrivato vittoria numero 4 in carriera per il figlio di Sir Prancelot andiamo un po' per il secondo alla fine la sorpresa Man in Promise al terzo Nocturne Alley dunque pesi bassi 10 al primo, 7 al secondo, 9 al terzo questo è il risultato della seconda triste di giornata è tutto Grazie per la visione! Grazie per la visione!